Esistono luoghi che danno alle imprese umane il significato di leggenda. Esistono luoghi e situazioni che conferiscono agli uomini il termine leggendario, iconico, epico. Esistono imprese così impossibili, così incredibili, così al limite, che a volte potremmo anche fermarci a riflettere e dire ma è realtà o è finzione? Lo sport è pieno di imprese incredibili, imprese al di là dell'immaginario. Se noi pensiamo al motociclismo, ok, tutti voi pensate a Valentino Rossi, che ha dominato per una quindicina d'anni, o magari prima a Max Biaggi, o prima ancora a Mick Doohan, ai grandi campioni degli anni Ottanta, Freddy Spencer, piuttosto che a Eddie Lawson, Wayne Rainey, o magari prima ancora a Kenny Roberts, ma andiamo ancora più indietro. Dobbiamo risalire a un'epoca in cui i regolamenti tecnici erano molto diversi da quelli odierni, in cui non esisteva tutta questa elettronica, non esisteva le centraline, non esisteva il controllo di trazione, non esisteva il controllo di lancio, non esistevano le sospensioni attive, non esisteva la telemetria, in cui era solo l'uomo e la macchina. Un tempo potremmo definirlo da pionieri, da eroi o da pazzi incoscienti. Correre con dei veri e propri bolidi sperimentali, a perdifiato, a volte su piste nemmeno tali, su tracciati ricavati attraverso vie di campagna, tutto per inseguire la gloria o la morte. Ecco, chi riusciva a sopravvivere a queste sfide, sfide davvero mortali, e riusciva magari non solo a sopravvivere ma anche a vincere, diventava automaticamente un eroe. Chiedetelo a Giacomo Agostini, il record man italiano di titoli mondiali vinti. Oppure potreste chiederlo a un'altra persona. Anzi, non potete, perché purtroppo è mancata diversi decenni fa. Non su una pista, no, è mancata su una strada, una strada comune, e non mentre correva, mentre era in auto con i suoi bambini, mentre andava a comprare fish and chips. Questa è la storia di un uomo straordinario, di un uomo che fu connubio tra l'essere umano e la motocicletta. Questa è la storia soprattutto di un uomo che, sfidando tutto, tutti, a cominciare da un fisico segnato dagli infortuni, un'età avanzante, una condizione fisica non più ottimale, è su un circuito terribile, forse più terribile al mondo, seppe stupire tutti. Questa è la storia di Mike Helwood, Mike the Bike, e la sua incredibile, leggendaria vittoria al Touristrophy. Il termine Touristrophy, nel mondo del motociclismo, fa tremare i polsi a chiunque, o di eccitazione o di paura. Il Touristrophy è una corsa su strada terrificante. Immaginate di dover correre per tanti, 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 tanti chilometri su un'isola, partire da un centro di un paese, inerpicarsi sulle stradine di campagna una dopo l'altra, salire sulla montagna e poi scendere di nuovo verso il mare e fare questo giro più volte, col rischio di trovare lungo la strada un peggioramento meteo, magari partire col sole, trovare la nebbia, la pioggia, il ghiaccio e poi non avere misure di sicurezza. Perché non si corre in un circuito vero e proprio, non è un tracciato realizzato appositamente dove si va a correre in tutta sicurezza. No signori, parliamo di un tracciato ricavato su strade che normalmente vengono aperte al traffico e vengono chiuse al traffico solo per la corsa. Peggio del Gran Premio di Monte Carlo per quello che riguarda la Formula 1. Ecco, se vogliamo trovare un equivalente del Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1 nelle due ruote bisogna andare a Macao, l'ex colonia portoghese, estremo oriente. Lì si corre il Gran Premio di Macao, anche per le moto e in quel caso sì, assomiglia moltissimo a Monte Carlo ed è ugualmente pericoloso, forse anche di più. Ma il Manx TT è il peggio che ci sia, è l'inferno delle due ruote. Al punto che Giacomo Agostini, ne abbiamo già parlato di lui, lo abbiamo accennato poco fa, assieme a tanti altri piloti, a un certo punto decise di dire basta. Non si poteva mantenere il Manx TT nel calendario del moto mondiale. Troppo pericoloso, troppi piloti finivano all'ospedale o all'obitorio per cimentarsi una corsa che passa attraverso viottoli di campagna, attraverso tombini, valle di fieno, cordoli improvvisati sui marciapiedi, lampioni della luce. Basta un niente al Manx TT per sbagliare e finire o in trazione o in una cassa multistrato. Per questo motivo il Manx TT, da un certo momento in avanti, diviene una corsa a sé stante, separata dal moto mondiale, in cui si va solo se si ha una moquette alta così all'interno dello stomaco. Perché si sa benissimo che da lì si può tornare vivi, non si sa in che condizioni, vincitori o morti. Il Manx TT fa mediamente una o due vittime l'anno. E allora perché correre? Perché l'essere umano insegue le sfide, perché l'essere umano si nutre della capacità, della possibilità di inseguire l'impossibile, di verificare fin dove ci si può spingere. E qui entra in gioco il nostro protagonista, Mike Helwood, un uomo che era stato soprannominato Mike the Bike. Chi lo aveva chiamato così? I suoi meccanici, gli altri team, i suoi avversari, i suoi amici, la stampa specializzata. Motivo? Mike Helwood era la moto. Mike Helwood riusciva a fondersi con la motocicletta che doveva portare, qualunque essa fosse, in qualunque condizione. Riusciva a interpretare al massimo la potenza a disposizione sul tracciato che doveva affrontare. Un uomo incredibile, un uomo che già a dieci anni, quando non era ancora un uomo, era solo un ragazzino, aveva iniziato a correre, spinto da quella passione che gli bruciava dentro, dal fatto che suo padre avesse anche lui la passione per i motori, anche se non correva, vendeva, vendeva auto e moto. Dopo aver visto la sua prima gara a dieci anni, Mike Helwood aveva già deciso cosa avrebbe fatto da grande, avrebbe corso, corso a rischio della propria vita. E aveva così tanto talento che già a pochi anni aveva iniziato a girare in un terreno vicino casa, con una piccola moto. Ebbene, su quella mini moto aveva girato così tanto da disegnare un ovale, una specie di circuito ovale, su quel campo. Gli piaceva e aveva stoffa. Nel giro di non molti anni, a partire dai 17 anni in avanti, Mike Helwood era diventato un nome nell'ambiente, era diventato un potenziale campione. Fine anni 50 e inizio anni 60, è il periodo in cui il motociclismo vive l'inizio della sua stagione d'oro. Le case italiane sono quasi tutte scomparse, è rimasta solo l'MV Augusta, le altre si sono ritirate in nome di un patto della Concordia. Quindi c'è l'MV, ma c'è anche la Norton, casa inglese, c'è la AJS, un'altra casa inglese, e stanno arrivando i giapponesi. È un'epoca di sperimentazioni. Il regolamento è libero, ci sono delle classi, la classe 50cc, la 125, 250, 350, 500, ma ogni costruttore può fare un po' quello che vuole. Non c'è limite di frazionamento, quindi si può montare monocilindrico, bicilindrico, tre cilindri, quattro, qualunque frazionamento è ammesso e si può sperimentare alla grade. E immaginate, non c'è l'elettronica, quindi si corre davvero a proprio rischio e pericolo. Mike però, come abbiamo detto, ha talento, è un'epoca in cui si afferma John Sartis, l'unico uomo al mondo, ancora oggi, a essere riuscito a vincere nelle due e nelle quattro ruote scoperte, perché oltre ad essere stato campione del mondo del motociclismo, è stato anche campione del mondo di Formula 1. Una rarità. Comincia a fermarsi anche a poco a poco la stella di Giacomo Agostini, ma questa non è la sua storia. È la storia di Mike the Bike. Mike the Bike che diventa una leggenda dopo aver firmato con l'MV nel 1962. Vincerà quattro campionati del mondo della 500 Gran Premio, l'attuale MotoGP, consecutivi. Provateci voi, se siete capaci. Stabilisce record di velocità, stabilisce nuovi limite per l'essere umano in sella, ed è così forte che a un certo punto abbandona l'MV e viene messo sotto contratto dalla Honda. L'abbiamo detto, arrivano i giapponesi, giapponesi che hanno imparato moltissimo a livello tecnologico. Non sono più quelli che copiano i modelli occidentali, sviluppano proprie tecnologie e sono sempre più agorretti. Mike the Bike è il loro alfiere, è l'alfiere della Honda e porta la Honda a vincere, 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 vincere sempre di più, finché non si arriva al 1968. Quando su Ichiro Honda, il fondatore, ormai sazio delle vittorie da due ruote, vuole cimentarsi con la Formula 1. Però si rende conto che non può rischiare di mandare in bancarotta l'azienda che sta andando sempre meglio e sta per lanciare la prima grande maxi, la CB750-4, inseguendo un doppio impegno sportivo. Quindi cosa fa su Ichiro? Decide di chiudere per il momento l'avventura nel moto mondiale, per concentrare tutte le risorse sulla Formula 1. Quindi che succede al nostro Mike? Resta a piedi? Effettivamente sì, perché firma un contratto con la Honda che è vincolante. Lui è un pilota Honda, non può guidare null'altro che Honda, almeno nel moto mondiale. Ma se Honda non c'è, Honda decide di dargli una sorta di indennizzo. Gli dà 50.000 sterline, che per capirci al cambio odierno sono circa 900.000 sterline, parliamo di più di un milione di euro, veramente tanti, tanti soldi, affinché Mike non corra per nessun'altra marca. Per un po' di tempo Mike se raccaverà andando a correre con delle Honda non assistite ufficialmente in gare al di fuori del moto mondiale. Viene in Italia, partecipa alla temporada romagnola, va in altre corse non iridate, ma dopo un po' si stufa. Si stufa perché è un agonista e poi vuole nuove sfide, lui vive di sfide. Così, negli anni 70, Mike the Bike passa alle quattro ruote. Prima la Formula 2 e non gli va neanche male, vince un paio di gare, corre anche episodicamente nella 24 ore di Le Mans, arriva a podium. Chiaro, tutti vorrebbero ripetere l'epica di Sartis. Bisogna dire che Mike ci prova, ma non ci riesce. Ci sono due episodi nella sua carriera di Formula 1, due episodi chiave. Il primo è il 1973, Gran Premio del Sudafrica. Un incidente, un incidente di gara. Lui e Clay Regazzoni si scontrano, finiscono fuori pista. L'auto di Clay prende fuoco. Mike è già uscito dall'abitacolo. Se ne sta andando, si accorge che Clay è svenuto, non riesce a uscire. Torna indietro, Mike. Ha proprio rischio e pericolo. Si ficca in quell'abitacolo, sgancia le cinture di sicurezza, aiuta Regazzoni a uscire. Per questo motivo, la regina in persona darà la medaglia di San Giorgio a Mike Helwood per la sua grande, grandissima voglia di aiutare il prossimo. Poi, nel 1974, il secondo evento, quello che pone fine alla carriera di Mike Helwood in Formula 1, e non solo. Si corre al Nürburgring, il Nordschleife, l'enorme circuito ben diverso da quello attuale, su cui due anni dopo ci sarà il terribile incidente di Niki Lauda. E sul Nordschleife, mentre corre con una McLaren, Mike Helwood subisce un incidente. La cellula della sua auto resiste ai colpi tranne che nella zona delle gambe. Ne esce da quell'incidente con la gamba a destra profondamente offesa. Praticamente in seguito ai postumi di quell'incidente, Mike non avrà più sensibilità alla caviglia destra. Per guidare anche nella vita di tutti i giorni dovrà ricorrere al cambio automatico e a comandi adattati per il piede sinistro. Fine di tutto? No. Non è la fine. Perché Mike Helwood ha comunque quel fuoco dentro che gli brucia. Ha comunque voglia di correre. Ha comunque voglia di mettersi alla prova. Anche quando ormai arrivano i 37 anni, la maggior parte dei piloti hanno smesso, comunque su una fase finale della carriera. Lui, tra l'altro, nel 77 è fermo da tre anni. Ha il fisico un po' appesantito ormai. La calvizia gli ha mangiato buona parte della chioma. Tutti credono che sia un nonnetto in pensione. Ma meglio non dirglielo che è un nonnetto in pensione, perché non si sa mai che potrebbe offendersi. Quello che è certo è che nel 1977 Mike Helwood torna a sperimentare l'ebbrezza della guida di una moto. Prima con una Ducati, poi con una Yamaha. Certo non sono corsi ufficiali, certo bisogna ogni volta adattargli la moto, cambiargli la posizione del cambio, da destra a sinistra, sistemargli alcune regolazioni, perché con quella gamba fa fatica. L'anno dopo, nel 1978, Mike ormai ha 38 anni, partecipa a una esibizione a Donington Park. Ed è lì che a Mike torna la voglia inrefrenabile di correre. Ma correre davvero, non di fare le passerelle. Basta con le passerelle, meglio dedicarsi alla competizione quella vera. Ma come fare? Esiste un campionato emergente, si chiama TTF1, Tourist Trophy Formula 1. Non è la Formula 1 delle quattro ruote, è la Formula 1 delle due corrono prototipi. Si prende un motore già omologato su una motocicletta da strada, lo si inserisce questo motore in un telaio completamente nuovo, che sia di un costruttore o di un artigiano, non importa, e si corre. Si corre dove? Sui circuiti dell'Isola di Man e eventualmente su altri circuiti stradali, molto pericolosi. Non sono molti a voler correre quel tipo di campionato. Però Mike Helwood, l'abbiamo detto, ha questa voglia irrefrenabile di tornare a correre. E questa voglia si manifesta attraverso il supporto dell'importatore britannico della Ducati. Mike aveva già provato la Ducati 900, certo non una versione da pista, però ormai ha deciso. Si torna a gareggiare. L'importatore compra tre Ducati 900, ne fa allestire una per Mike, una per il suo copilota Nichols e una terza viene tenuta ufficialmente di scorta, in realtà serve per un collezionista. Da quel momento in avanti si lavora sulla moto di Mike. Il cambio viene portato da destra a sinistra. La caviglia, l'abbiamo detto, si cambiano i pistoni, si alleggerisce, si mette un nuovo sistema di valvole, mantenendo le alberrelle coppie coniche, ma con una maggiorazione dei meccanismi stessi. Si cambia il sistema ammortizzante, si lavora sul telaio e un nuovo sistema di accensione elettronica. Quel che ne esce è una bellissima moto da corsa, con una carenatura che ricorda la bandiera italiana, rosso e verde con una sottile strisciolina bianca. Al touristrofi del 1978, la griglia di partenza è decisamente bella, ampia, quasi un parterre d'erroire. Si corre il 3 giugno del 1978. E ai nastri di partenza c'è una vecchia conoscenza di Mike Edwood. Si chiama Phil Reed, anche lui, pluricampione del mondo. È l'uomo da battere. È l'uomo che per Mike Edwood rappresenta il primo rivale in pista. Le prove vedono Reed dominare, d'altronde è troppo forte. Edwood è parecchio indietro. In mezzo ci sono altri competitor aggueriti. Ci sono altre onda, quelle di Tom Heron e John Williams. Ma c'è anche una Kawasaki ufficiale, quella di Ian Richard. C'è la Triumph che, anche se non se la passa benissimo a livello finanziario, ha portato alcune sue tre cilindri in gara. Poi c'è la Suzuki. C'è addirittura la BMW. Insomma, c'è di tutto. Mike parte. Parte quel 3 giugno, è un sabato. E parte parecchio indietro rispetto a Phil Reed. Però Mike conosce molto bene il circuito, dai tempi in cui ci correva con le Gran Premio. E la Ducati si comporta bene. È solida. Smentisce le malelingue che la vicinia, diciamo, che si sarebbe rotta prima di completare un giro. La squadra ha lavorato molto bene su quella moto. E Mike la sente sotto di sé, che è romba potente e ne asseconda i movimenti. In cinque giri, Mike raggiunge Phil Reed. Gli ha le spalle. Gli mette pressione. Phil, a quel punto, cerca di avere di più della sua onda. Errore fatale. La onda si rivela più fragile. Troppo fragile. Al punto che Reed è costretto a ritirarsi perché il motore, improvvisamente, dichiara forfè. Grippa. Reed finisce la gara a bordo tracciato, guardando la sua onda ammutolita e non potendo fare più niente. Mike è in testa. E si fa l'ultimo giro in testa da solo, staccando tutta la concorrenza, quasi come se fosse una passerella. Pubblico invisibilio. Immaginate un 38enne con la pancetta, calvo, con la gamba destra messa male, che vince il più terribile cimento su due ruote su questa terra, dopo che erano anni che non correvano a gara ufficiale. Miracolo, leggenda, sceltevo il termine. Mike Edwood scrive la storia. E tanto basta. Perché è chiaro che in quel momento si dimenticano i titoli mondiali del passato, si dimenticano le glorie, i podi di quando era più giovane, si dimentica anche la Formula 1, si dimentica tutto. Tutto si dimentica. Perché Mike Edwood è nella storia. Non sarà la sua ultima corsa. Correrà anche l'anno dopo, a 39 anni, sempre al Touristrophy. Non più con la Ducati, ma con una Suzuki, una RG Gamma 500 a due tempi, una moto a gran premio. Ma le leggende, lo sappiamo, non sono destinate a vivere su questa terra. La loro eco dura in eterno. Quello sì. E come avverrà anche tanti anni dopo per Joey Dunlop, il primatista di vittorie al Touristrophy, che morirà sempre su una corsa su strada, ma non all'isola di Man, ma signori, a Tallinn in Estonia, su una strada bagnata dalla pioggia. Ecco, anche Mike the Bike morirà in maniera, diremmo, anonima, come potrebbe avvenire a chiunque tra noi. Mike si era sposato, aveva dei figli, Michelle, una bambina, e David. Il 21 marzo del 1981, Mike è al volante di una Rover. Sta portando i suoi figli a comprare Fish and Chips, un classico in Inghilterra. Si trova nel Warwickshire, è al volante. Non è molto distante da casa. Il problema per Mike è un camion. Un camion che improvvisamente decide di fare un'inversione a U. Il rimorchio finisce in mezzo alla strada. Mike e la sua auto vanno a sbattere. Michelle, la bambina, muore sul colpo. Mike e David vengono portati in ospedale, in condizioni molto gravi. David riuscirà a sopravvivere e si riprenderà dalle ferite. Mike lotterà per due giorni prima di arrendersi. Non aveva ancora compiuto 41 anni. Se ne va così la leggenda Mike the Bike, lontano dai circuiti, lontano da quelle corse spericolate in cui rischiava la propria vita. La sua vita vola via in un ospedale dopo un banalissimo incidente stradale, come ne accadono tanti. La sua memoria però resta. Resta perché il suo nome è iscritto in eterno nella gloria tra i vincitori del Touristrophy. Resta perché la Ducati, che in quel periodo se la passava veramente male, era nel portafoglio IRI, pareva destinata a chiudere i battenti, a diventare una fabbrica di diesel marini. Ebbene la Ducati viene rilanciata dall'eco della vittoria di Mike Elwood e produce una motocicletta replica, la 900 MH, la 900 Mike Elwood, ultimo esemplare col motore ad alberello e coppie coniche, che diventa un'icona e contribuisce al rilancio finché non arriverà la famiglia Castiglioni, che leverà da Liri e le darà nuova vita. Se oggi abbiamo le Ducati vincenti, se non oggi abbiamo Pecco Bagnaia, campione del mondo in MotoGP, se per tanti anni Ducati ha dominato la Superbike, con Doug Poland, con Fogarty, con Corsair, ebbene, lo dobbiamo anche a quell'uomo, quell'uomo che era un inglese così strano, capace di sorrisi incredibili e di fondersi con la sua moto. Mike the Bike Elwood, l'uomo che fu simbolo di coraggio in Formula 1 e di limite, anzi oltre il limite dell'impossibile, sulle due ruote, persino in quell'inferno, chiamato Isola di Man.